La definizione di ipnosi è stata data in tante maniere abbastanza contraddittoria anche l'una con l'altra. Credo che la spiegazione più semplice e forse anche quella più utile è di pensare allo stato ipnotico, alla condizione ipnotica, come a un restringimento del campo di coscienza. Quindi tra le varie cose che la nostra coscienza riceve in ogni momento della nostra esistenza si può frapporre la possibilità di restringere l'ambito in cui queste cose vengono percepite e ridurlo fino a farlo diventare puntiforme o comunque estremamente focalizzato, tanto da lasciare passare un concetto o pochi concetti per volta. Questo permette di avere nella condizione ipnotica una sorta di lente di ingrandimento che permette di osservare molto meglio e molto più da vicino gli aspetti che ci interessano di più. Quindi l'ipnosi è uno stato di coscienza particolarmente adatto a risolvere problemi proprio per il fatto che si possono osservare senza disturbi di tutto ciò che è intorno di quella che è la nostra attività quotidiana perché permette di distaccare e di allontanare nell'esperienza della persona il resto del mondo esterno facendo soprattutto attenzione a quello che è da risolvere o che è particolarmente importante per la persona in quel momento. Un ipnoterapeuta molto diverso dal passato. In passato, già il termine induzione lo fa capire, l'ipnotista cercava di immettere nel paziente attraverso la suggestione che era il suo strumento principale da utilizzare nell'ambito dell'ipnosi. La suggestione diventava qualcosa che veniva suggerito dall'esterno e accettato passivamente dal soggetto che perdeva temporaneamente la sua capacità critica. Ora si è visto che nel tempo poi la capacità critica viene recuperata e alla fine il soggetto si libera delle suggestioni non compiacendo più il suo interlocutore. Quindi da questo punto di vista l'aspetto suggestivo è piuttosto fallimentare. Oggi invece si preferisce evocare, cioè far uscire, far venire fuori dal soggetto le sue qualità, le sue risorse, le sue capacità e lavorare con quelle, risolvere i problemi grazie a quelle che sono delle disponibilità che il soggetto possiede già prima dell'intervento, rendendole più mobilitate, più attive, più efficaci di quanto fossero prima. In tal modo il soggetto diventa il vero protagonista dell'esperienza ipnotica e l'ipnotista deve lasciargli la libertà di poter agire in questa maniera. Quindi è più al servizio del suo paziente di quanto non fosse in passato, dove invece si riteneva il contrario, cioè che l'ipnotista potesse condizionare e dirigere il suo paziente dove meglio credeva. Questo non è più pensabile oggi, è una realtà in cui la presenza del soggetto conta molto di più e l'attenzione che viene dedicata a questa è ripagata da risultati sicuramente migliori. Ma di falso credente sull'ipnosi ci sono sempre state tante, poi la letteratura e anche il cinema hanno contribuito a far pensare che con l'ipnosi si possa fare qualcosa che gli altri esseri umani non possono fare, quasi che potesse dotare di superpoteri rispetto all'individuo normale comune. La verità è molto diversa, non si può ottenere che una persona faccia cose contro la sua volontà se non imbrogliandolo, raggirandolo, ma non c'è bisogno dell'ipnosi per ottenere questo risultato. Invece il soggetto ipnotico è un soggetto che mantiene pienamente la sua libertà e riesce proprio per questo a ottenere dei risultati importanti. In più, tra le altre convenzioni errate c'è l'idea che si sia preda dell'ipnotista che può far di te quello che vuole, anche questo non è vero, chiunque faccia l'ipnosi con scopi terapeutici sa quanto è difficile indirizzare un paziente anche con l'ipnosi e anche quando è un buon soggetto ipnotico in direzione in cui non vuole andare. E infine c'è anche il timore di non risvegliarsi o il timore di non ricordare quello che si è detto, sono tutte cose che sono più parte della leggenda che della realtà. Certo, nell'ipnosi di Giugas Casella tutti quelli che vanno in ipnosi hanno amnesia completa di quello che è successo. Nella realtà non più del 20% ha una discreta amnesia, quindi neanche completa rispetto ai soggetti ipnotici, quindi la maggior parte delle persone ricorda bene buona parte di quello che ha vissuto. Quindi diciamo anche questo è un altro falso mito. poi ecco c'è il fatto di addirittura di essere preda di tutto ciò che l'ipnotista vuole, cosa che non è assolutamente vera. L'idea, il timore di non risvegliarsi, ecco queste sono tutte cose che fanno parte di leggende non più credibili e non più credute da nessuno. Fortunatamente ecco man mano si sta acquistando conoscenza dello strumento ipnotico che d'altra parte lo ricordo non è soltanto l'esperienza di una terapia o di una capacità di un ipnotista, ma è un'esperienza quotidiana che le persone hanno comunque nella loro vita, quindi non c'è motivo di aver paura di qualcosa che già hai con te è già vissuto centinaia di volte durante la tua esperienza di vita. L'ipnosi può essere sicuramente più breve delle altre psicoterapie perché basandosi sull'essenziale, quindi non sulla quantità delle informazioni ma sulla loro qualità anche nell'intervista col soggetto si cerca di scegliere quelle cose che hanno un valore maggiore rispetto ad altre, si può abbreviare molto l'intervento terapeutico. Ci sono però degli aspetti o degli interventi in cui la brevità si è dimostrata particolarmente evidente. Nel trattamento del dolore noi sappiamo che un analgesico impiega sempre almeno un'oretta prima di manifestarsi. Una buona induzione ipnotica può durare qualche minuto. Una volta ottenuta le manovre che servono per ottenere un'analgesia possono avvenire in pochi secondi. I risultati quindi sono sicuramente preferibili per la brevità ma anche perché gli effetti collaterali di alcuni farmaci sono poco tollerabili dalla maggior parte delle persone per cui più breve è anche più tollerabile sicuramente diciamo senza effetti collaterali significativi. Viceversa al di là di quello che è assunto l'aspetto più strettamente di tipo medico anche analgesico abbiamo la possibilità di applicarla in psicoterapia per il dolore psichico per esempio e poi anche in alcuni disturbi come disturbi di conversione dove si è visto che addirittura i tempi brevi sono più favorevoli dei tempi lunghi. Quindi un trattamento di un disturbo di conversione vale a dire una paralisi isterica, una cecità isterica. I tempi brevi vincono sui tempi lunghi perché una lunga psicoterapia non fa altro che aumentare il persistere, prolungare nel tempo il persistere del disturbo e ne rende più difficile la capacità da parte del soggetto di adattarsi a una vita senza quel disturbo. Quindi più presto si interviene meglio è e poi prima si finisce e meglio è. Quindi questo per quanto riguarda i disturbi di conversione. Per il resto genericamente posso dire che l'ipnosi arriva con qualche mese o qualche anno di vantaggio rispetto alla maggior parte delle terapie. Per cui è da considerare una terapia breve anche se non deve essere per forza pensato che si debba fare in gran fretta senza pensare ai tempi che il soggetto richiede perché a volte il cambiamento ha bisogno di maturare e di essere adattato alla realtà del soggetto e questo può richiedere nel tempo. diciamo l'ipnosi c'è sempre stata ecco diciamo i ricordi che vanno più in là nel tempo la vedono addirittura 10.000 anni fa soprattutto in cina e nel tempo diciamo probabilmente l'ipnosi è cambiata però non è mai scomparsa ha avuto degli alti e dei bassi sono stati dei momenti in cui sembrava scomparire in realtà non è mai scomparsa anzi ha dato origine a molte delle psicoterapie esistenti quasi tutte per non dire tutte le psicoterapie esistenti hanno tratto dall'ipnosi ispirazione qualche volta anche metodiche anche mentalità approcci filosofie. Oggi l'ipnosi quindi io la considererei come una specie di psicoterapia essenziale che potrebbe servire anche come forma di apprendimento e di utilizzazione a tutti gli psicoterapi in genere perché abituarsi a osservare i piccoli dettagli avere la capacità di rendersi conto del cambiamento del soggetto mentre sta avvenendo quindi non aspettare la situa successiva ma subito vedere momento per momento come il soggetto risponde agli interventi dell'ipnotista è qualcosa che le psicoterapie in genere dovrebbero apprendere quindi ritengo che possa essere una guida per gli altri approcci per gli altri orientamenti al tempo stesso penso che di suo l'ipnosi abbia delle qualità che permettono oggi con l'accesso alle neuroscienze e con i sistemi di neuroimaging ci permetta di osservare subito attraverso le immagini i cambiamenti mentre avvengono attraverso la risonanza magnetica funzionale o PET e vari altri mezzi di scannerizzazione cerebrale quindi questo ci dà la possibilità di vedere il cambiamento che nasce che sorge che si mantiene nel tempo e pertanto diventa anche uno strumento di indagine del funzionamento cerebrale che a mio avviso non può essere fatto con altri strumenti e quindi sempre di più sarà richiesta perché man mano che le tecniche permettono di guardare dentro tanto più possiamo vedere i cambiamenti che l'ipnosi è in grado di indurre la fenomenologia ipnotica è talmente ricca e variata che solo pensare a studiarne anche uno solo di questi aspetti vuoi analgesia o vuoi distorsione temporale ci permetterebbe di capire come funziona il nostro cervello quando il ritmo del tempo o la percezione del dolore cambiano nel tempo mano mano che si applicano gli strumenti che hanno a che fare con un cambiamento del modo di pensare delle persone quindi credo che possa dare molto dal punto di vista sia scientifico sia di ricerca ma anche dal punto di vista clinico proprio perché diciamo magari nel passato era un po troppo super persuasiva oggi diventa una modalità di approccio accessibile a tutti in tempi brevi e con la possibilità anche che il soggetto non sia un soggetto passivo ma che possa prendersi in mano la sua stessa salute e le sue capacità di condividere le esperienze con gli altri